Fabio oggi una partita a due volti il primo tempo l'Arezzo che costruisce tanto ma non riesce a concretizzare e va sotto nella ripresa invece un po il contrario con l'Arezzo che è concreto segna due gol e poi riesce a resistere fino al 94esimo sì diciamo che è un po quello quello che stiamo facendo nelle ultime partite ecco le sette vittorie erano non erano un caso è oggi è arrivata l'ottava con con lo spirito giusto ecco non ci siamo disuniti neanche dopo il vantaggio loro immeritato per quello che si era visto nel primo tempo siamo stati bravi nel secondo a ribaltarla e a tenere perché comunque ecco poi queste sono partite sempre un po critiche porte chiuse ma no quindi ringraziamo come ho già detto i tuoi colleghi ringrazio veramente i tifosi perché hanno fatto una roba bellissima venendo qui ci hanno dato una spinta in più e li abbiamo sentiti quindi speriamo di avergli dato una una grossa gioia ecco tra l'altro a di là della prestazione sontuosa di quest'oggi sei stato anche autore dell'assist che ha permesso a Gucci poi di trovare il gol del pareggio come è nata quell'azione sì ci eravamo detti magari di andare sulle spizzate sono riuscito a prendere una una sua spizzata poi so che lui riattacca l'area quindi ho visto che insomma poteva arrivarci è stato fenomenale poi nella giocata perché ha fatto una roba bellissima e quindi sono cose che cerchiamo di fare non sempre escono per oggi è venuta bene e penso che il pareggio ci ha dato quella spinta in più